sto godendo un po in maniera esagerata voi mi direte mette ma che c'è sta da gode ma ci sono tanti motivi per godere ok ci sono tanti motivi ho qui una cosa guardo qui sotto per qualche motivo ma ciò una cosa che vi devo leggere qui sotto molto importante sei cose in realtà che vi devo leggere pensate un po oggi vi reggo vi faccio una bella lista di cose scritte da un unico soggetto che ha scritto delle cose e ha detto guardate voi juventini vi dovete rendere conto di una cosa ok queste cose che scrivo sono realtà cioè queste cose sono verità e allora io te voglio di caro paolo ziliani continua continua così scrivi scrivi quello che te pare perché tutto quello che hai detto ziliano non si è avverato niente niente ragazzo delle cose qui impressionanti tutto quello che ha scritto è il contrario praticamente lui è come cassano ok è il contrario lui lui dice dammi praticamente mi fa un favore ok mi fa un piccolo favore ziliani tu mi devi dare ok mi devi dare 84 numeri dell'otto che io mi vado a giocare gli altri sei va bene tranquillo così così la perché questa è una cosa e questo c'ha talento quest'uomo quest'uomo c'ha un talento impressionante quest'uomo è bravissimo nel dire le cose ma vi spiego fra pochi secondi io vi spiego di che cosa si sta parlando ha detto delle cose veramente impressionanti e ne parliamo insieme ragazzi e riguardano ovviamente delle cattiverie che lui ha scritto come al solito allora che dobbiamo fa prima di tutto raga perché dovete fare cosa dovete fare cosa molto importante cosa molto importante iscriversi campanella e ovviamente like anzi iscriversi like che dovete fare iscrizione ovviamente iscrivetevi mettete qui sotto il tasto iscriviti poi c'è la e poi c'è la campanellina ragazzi basta cliccare la campanellina per andare dentro avere tutte le notifiche e vi ricordo se vi va seguitemi sui social andiamo a vedere un pochino cosa ha scritto il nostro caro paolo che si insomma si 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 diciamo che lui si 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 emerge ogni tanto dalle tenebre per scrivere delle cose prima bugia scritta da paolo jeep lo sponsor ovviamente alla juve se ne andrà perché vuole appunto prendere le distanze da quello che sta succedendo ovviamente per quanto riguarda la situazione relativa al processo che la juve sta insomma avendo quindi jeep che è lo sponsor di casa tra l'altro perché lo sponsor relativo ovviamente alla fiat a tuttavia praticamente va via questo ha scritto tempo fa ha detto guardate che non vi preoccupate lo sponsor della juve andrà loro rimarranno senza soldi non ci avranno manco lo sponsor sulla maglietta sono jeep ancora sta là nel frattempo te saluta con il rinnovo e ti dice ciao però tu avevi detto che questa cosa sarebbe stata fantastica altra cosa giocatori della juve per quanto riguarda la situazione relativa la manovra stipendi chiederanno dei soldi alla juve poi avete visto qualcuno che chiede soldi alla juventus avete avete notato qualcuno che chiede soldi alla juventus c'è stato qualcuno che chiede soldi alla juventus ci sono delle indagini in corso su un singolo giocatore che ritiene di dover ricevere pagamenti alla juventus ma questi pagamenti sono stati effettivamente dati e quindi per adesso non si è mossa manco una foglia quindi anche qua seconda cosa che vi devo leggere ho letta praticamente non è stato letteralmente vero nulla terza cosa che vi devo leggere i giocatori della juventus verranno squalificati tutti e in più ci sarà chi farà anche qui ci saranno conseguenze per i giocatori della juve per i dirigenti della juve per gli allenatori vecchi della juve ha detto che praticamente c'era devano al suolo a noi noi saremmo stati per quanto riguarda ziliani per quelle che sono le opinioni di ziliani secondo lui ci dovevano rade al suolo io vedo che nel momento in cui sto parlando stanno facendo delle indagini abbiamo vinto il ricorso al coni continuiamo a fa quello che abbiamo sempre fatto e nel frattempo non mi sembra proprio di avere problemi di questo tipo quindi terza cavolata dicevo dicevo prima che si interrompesse il video quarta bugia 40 tesserati della juve saranno squalificati ora avete visto per caso qualcuno che è stato squalificato avete visto un tesserato juve squalificato tipo un giocatore o un ex allenatore 40 ha detto 40 tesserati saranno squalificati no uno due 40 tu hai detto che 40 persone saranno squalificate quando perché come per quale motivo mi devi squalificare 40 tesserati soprattutto perché ancora non li hanno squalificati ma tu ti rendi conto delle delle cavolate che stai a scrivere delle cose che dici e delle delle persone io mi rendo sai cosa c'è che mi dà veramente fastidio il fatto che questa persona qui venga presa sul serio pure da determinate stati migliori soggetti cioè questo vi racconta bugie da tutte le volte mi racconta una bugia diversa e voi come gli allocchi non voi che mi seguite ma voi che ci credete voi come gli allocchi è andata appresso a questo 40 tesserati saranno squalificati io non ho visto manco mezza squalifica ai giocatori o all'allenatore manco mezza poi dirigenti è un altro discorso perché quello si parla di un altro procedimento ma io 40 40 tesserati non li ho visti squalificati forse volevi dire forse volevi dire non lo so volevi dire qualche altra cosa sarà l'età non lo so 40 no sarà l'età no 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 ma sarà non lo so l'annebbiamento dovuto all'odio sarà la la l'incapacità di essere oggettivo sarà la la non lo so la non non so io manco che cosa ti devo dire sinceramente mi sento mi sento angosciato onestamente angosciato mi sento con questa cosa qua veramente mi sento davvero davvero molto 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 angosciato va bene ragazzi è una cosa che che poi ci sta anche ci sono anche altre altre due cose che lui ha scritto altri due capolavori che io sto mantenendo per ultimo perché voglio far mettere un po di suspense come si dice no un po di 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 non lo so di strizza come si dice a roma quindi voglio mettere un po perché però perché per adesso siamo andati fortissimi abbiamo parlato con un sacco di cose ci sono anche due cose una riguarda la superlega e tra poco ne parliamo l'altro riguarda il tar quindi ha proprio dato il meglio di sé praticamente lui questa cosa qua ha praticamente dato il meglio di sé ed è una cosa che che veramente mi fa mi mi rende veramente perplesso sotto tutti i punti di vista vabbè lasciamo prende quinta bugia di ziliani la corte dell'unione europea sospenderà la superlega entro marzo qualcuno ha sospeso la superlega entro marzo avete visto qualcuno della corte europea che ha sospeso la superlega entro marzo non è manco stato fatto il processo della superlega manco ci siamo andati a fare il processo lui già sapeva che entro marzo la superlega sarebbe stata bloccata entro marzo la superlega corte europea sospenderà la superlega questo ha detto questo ha scritto entro marzo lui ha dato anche dei tempi cioè lui è talmente conosce le cose talmente bravo che lui sa pure quando sa anche quando la superlega verrà sospesa questo è un fenomeno questo è un fenomeno questo è la quintessenza del delta questo è questo è il genio dei geni questo qua sa tutto lui allora non avete capito che sta da fare questo sa tutto lui questo sa tutto lui questo conosce tutto questo sa i tempi sa quello che fa la corte europea sa tutto sale sta stipe sale plus vale conosce tutto è un fenomeno è un fenomeno tutto c'è sta azzeccato e poi l'ultima che è una cosa proprio lì proprio detto beh questo proprio sarà partito avrà mangiato zuccheri di continuo il cds annullerà la sentenza del tar ovviamente si riferiva credo a quella relativa alla carta segreta quella del fatto della carta segreta lui ha detto il cds annulla la sentenza del tar non le preoccupate questi ladri verranno condannati il cds ribadirà a cheltare il cds praticamente non ha fatto letteralmente nulla andato a nostro favore allora quindi riepilogando facendo un un rapido riepilogo di tutto ciò io credo di credo che io non credo di essere io non so perché ci perdo manco tempo appresso a queste cose devo dire la verità è diventato è diventato una sorta di non lo so una sorta di 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 deviazione dal punto di vista calcistico allora jip si vergogna della juve 1 2 abbiamo detto che avevamo detto prima che quelli che c'erano gente che doveva ricevere i soldi della juventus 3 che i giocatori venivano insomma tesserati squalificati giocatori che facevano causa la corte europea che va contro la superlega e quindi la sospende entro marzo poi il cds annulla la sentenza del tar che altro mi vuoi dire che che altro mi vuoi oh possibile non ne hai presa una non ne hai presa una 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 non ne sei riuscita a prendere e tu saresti pure un giornalista da cui la gente si deve informare non ne hai presa una una guarda il ma com'è che questo grandissimo professionista è riuscito a non prendere nemmeno una ma come si fa ma questa questa sta decadendo il giornalismo vero quello con la v maiuscola anzi con la g maiuscola perché si parla del giornalismo qui sta decadendo tutto questo è un fenomeno questo è riuscito nell'intento di di sei cose di sbagliarne tutte sei è un fenomeno è straordinario è meraviglioso io me la voglio portare a casa va bene io me la voglio portare a casa io te metto sul como su io te metto io facciamo una cosa io te porto a casa ti metto seduto sul divano e io te do ogni tanto ti dico paolo per cortesia mi puoi dire qualcosa tu mi dici una cosa io mi vado a dire il contrario quindi sono sicuro che dico la verità è una cosa impressionante è una cosa impressionante quest'uomo quest'uomo è una sentenza quest'uomo è un genio quest'uomo è legge ragazzi è meraviglioso è meraviglioso non ne ha presa una non ne ha presa dicevo ragazzi non ne ha presa una non ne ha presa una no 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 manco una ne ha presa o dico non capirà una cosa non capirà una cosa perché probabilmente non capirà una cosa ne capirà un'altra cioè se sbagli lì avrai ragione su un'altra cosa no tipo per esempio jeep si vergogna va beh ha sbagliato questa ti sarà arrivata una non lo so un'indiscrezione sbagliata che ne so io jeep si va beh allora ci azzeccherai sui tesserati manco quella corte europea manco che perché non cambi lavoro è una cosa incredibile è una cosa incredibile fatemi sapere un pochino nel senso una cosa paradossale sta cosa qua veramente sono 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 colpito da tutto ciò sono francamente molto vicina dicevo ragazzi prima che si interrompesse il video abbiamo problemi tecnici non ha presa una quindi fatemi sapere un pochino nei commenti cosa ne pensate voi di questa cosa perché vogliamo sapere un pochino la vostra opinione nel senso stato apposta qui no quindi mi raccomando fatemi sapere un pochino la vostra opinione su questa situazione ragazzi grazie grazie